Ciao a tutti, oggi vi voglio fare un video un po' particolare che ho visto sul canale di Leonardo De Carli che lui intitolava Scuola con la Q di Melma in realtà questa tipologia di video, ovvero un video racconto della propria esperienza scolastica l'ho vista anche su altri canali YouTube e io ho ascoltato tutti quanti i video che ho trovato su questa cosa qui perché non lo so, mi piaceva e quindi ho detto ok, mi piace ascoltarlo, mi piacerà sicuramente farlo e quindi visto che io ho già affrontato tutta la mia carriera scolastica ho detto voglio farlo anch'io, rispondo anche io a questo video allora partiamo dall'asilo, io ho frequentato soltanto l'ultimo anno di asilo perché avevo mamma a casa che quindi poteva prendersi cura di noi e quindi mi ha fatto andare soltanto all'ultimo anno di asilo poi se non sbaglio poi ha cominciato a lavorare quando è appunto che andavamo a scuola di quelli elementari e roba così l'ultimo anno di asilo quindi io mi sono trovata praticamente è stato un po' traumatico vi dico la verità cioè è stato bellissimo il fatto di poter essere stata ovviamente con mia mamma quanto più tempo io abbia potuto però dall'altro lato per me che già non ero una bambina troppo espansiva mi sono trovata catapultata praticamente in un ambiente totalmente nuovo per me perché un conto era stare in compagnia con i propri cugini con magari gli amichetti del palazzo che ormai si conoscevano è un conto di essere catapultata in una classe che ormai è arrivata all'ultimo anno quindi anche per quanto piccoli comunque i bambini hanno già consolidato delle amicizie molto forti per me inserirmi in queste amicizie molto forti in un unico anno è stato veramente molto molto difficile quindi mi sono ritrovata ad aver legato con alcune persone e quando questi bambini mancavano io praticamente stavo da sola perché c'erano certi gruppetti che proprio non mi facevano avvicinare non mi facevano giocare con loro erano veramente cattivi poi sappiamo che i bambini sanno essere veramente molto 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 cattivi in compenso nonostante io sia arrivata all'ultimo anno praticamente mi ero trovata anche il fidanzatino però c'era tipo una faida con un'altra ragazza che in realtà poi è stata una mia cara amica è una cara amica solo che purtroppo per via di impegni cose le nostre strade si sono un po' divise però ogni volta che la risento mi fa estremamente piacere comunque quindi c'è stata tipo questa faida tra me e quest'altra bambina per un altro bambino perché entrambe dicevamo di essere fidanzate con lui quindi questo bambino già era un furbetto da piccolo secondo me però la storia è stata risolta alla recita di fine anno quando praticamente no alla recita di Natale scusate la recita di Natale è dove io ho fatto la Madonna lui ha fatto Giuseppe e invece questa ragazza l'ha fatto l'infermiera quindi a quel punto la coppia era consolidata questo qui è stato il mio traumatico primo anno di asilo vabbè l'asilo io me lo ricordo proprio che c'era una netta distinzione maschietti femminucce c'era proprio questa netta distinzione si formavano ovviamente proprio i gruppetti salvo che c'era appunto qualche fidanzamento come quello lì che era successo a parte questo ragazzino che già era poligamo da piccolo però vabbè quello è un altro discorso arriviamo all'elementari quella sfiga vuole che io praticamente una settimana prima dell'inizio della prima elementare io caddi al mare sugli scogli per correre tanto al corso sugli scogli ho inciampato e penso che mentre ho inciampato io sono svenuta perché il primo istinto quando uno cade è mettere le manine davanti per proteggersi io invece sono poco svenuta io ricordo quel momento quando sono caduta ma poi mi ricordo soltanto quando poi sono rinvenuta perché praticamente stavo in piedi mi faceva malissimo qui sotto perché sono caduta di mento in avanti io penso di essere svenuta quindi sono dovuta andare in ospedale mi hanno messo i punti e quando me li dovevano togliere la mattina del primo giorno di scuola dell'elementari tanta pace quindi io ho perso il primo giorno di scuola dell'elementari arrivando il secondo giorno di scuola praticamente la storia si è ripetuta di nuovo c'erano già tutti quanti i banchi formati già per bambini che avevano già fatto amicizia e io di nuovo così ho fatto te pare ecco di nuovo eccola là e niente però vabbè c'era già qualcuno che conoscevo dall'asilo diciamo che le elementari sono state molto belle avevo delle maestre molto brave anche se c'era una maestra di matematica che io amavo e lei amava me ma ho avuto questo rapporto più o meno con tutte le quasi con tutte le insegnanti di matematica però tutti la odiavano dicevano che era veramente cattiva questa maestra ma io la amavo con tutta me stessa proprio quindi mi dispiaceva anche quando gli dicevano qualcosa di cattivo perché io l'adoravo e niente diciamo che le elementari erano una brava bimba studiosa ho sempre preso ottimi voti e tutto quanto quindi le elementari passano agevolmente se non sbaglio sì c'erano gli esami alle elementari c'erano? non mi ricordo boh vabbè no non c'erano che cacchio sto dicendo non lo so comunque arriviamo alle medie primo giorno di scuola media io ricordo di mio papà che mi dice di mettermi praticamente quasi verso l'ingresso non era proprio l'ingresso della scuola era il cancello uno dei cancelli di ingresso della scuola ho ricordo di mio papà che mi dice di mettermi lì per farmi la foto perché era il primo giorno di scuola ma io già ero timidissima a livelli stratosferici il fatto che mio papà mi dicesse di andarmi a mettere lì per farmi fare la foto era una situazione che mi metteva in qualche modo mi dava all'occhio cioè nel senso nella mia testa concentrava l'attenzione potenzialmente su di me quindi ero imbarazzatissima già prima ancora di entrare in classe e arrivata in classe c'era qualcuno se non sbaglio delle mie elementari però erano tipo due o tre ma due forse non è che mi ricordo bene era un paio forse sì perché tanti amichetti avevano scelto un'altra scuola infatti il distacco dagli amici quelli lì più stretti quando sceglievano un'altra scuola è stato brutto sia nel passaggio elementare e medie che nel passaggio medie e superiori è stato proprio brutto nelle medie io mi sono divertita tantissimo mi sono divertita proprio come non mai alle medie veramente tanto 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 ne ho combinato tutti i colori ho preso le peggio note in seconda e terza media il nostro professore di matematica era il preside della scuola no mi sa il vicepreside scusate era il vicepreside della scuola ed io una mia amica cioè proprio ci tagliavamo con questo professore cioè ci divertia a parte che lo disegnavamo perché facevamo caricature di tutto e di tutti quindi ovviamente anche di lui poi io e questa mia amica praticamente la mattina andavamo a comprare la merenda e noi dovevamo andare in bagno praticamente prima poco prima della ricreazione perché dovevamo andarci a scaldare le nostre pizzette quindi le nostre merende sopra i termosifoni del bagno e quindi puntualmente non era colpa nostra che c'era sempre lui a quell'ora ogni giorno quasi ogni giorno e all'ennesima volta che noi gli abbiamo chiesto di andare in bagno con sta merenda ficcata sotto sotto la felpetta per niente come alziamo le mano c'è questo qua si interrompe poi già il libro guarda l'ora ed eccoci qui alle 10 e 20 puntuali le due madonne chiedono di dover andare in bagno prego andate in bagno proprio così disse mi è rimasto impresso le due madonne oddio gridere no veramente mi sono dire ma poi sempre lui se non sbaglio ci mise diverse note sempre a me e questa mia amica una volta perché diceva che ridevamo troppo tipo durante la lezione una roba del genere e ah poi lui era insegnante come vi dicevo di matematica e di geometria e praticamente c'era una sorta di sfida tra me questa mia amica e questo insegnante questo maestro questo professore e quindi noi praticamente ci sforzavamo tipo ci riunivamo il pomeriggio per fare quegli esercizi per dargli dimostrazione di insomma che li sapevamo fare puntualmente lui doveva trovare qualche cavillo che non andava santo cielo cioè proprio come cioè proprio l'abc di come distruggere l'autostima di un ragazzo adolescente perché perché mi fai questo comunque passaggio alle superiori nel passaggio alle superiori la maggior parte dei miei amici compresa questa mia amica che vi dicevo hanno scelto liceo scientifico io invece avevo scelto ragioneria e quindi mi sono ritrovata in classe praticamente con alcuni compagni che avevo alle elementari mi ho perso molti delle superiori però poi li ho tipo ripresi durante altri anni perché hanno abbandonato le scuole dove erano e sono venuti dove stavo io e le superiori mi sono divertita se no la mia classe non mi faceva impazzire ve lo dico non mi faceva impazzire proprio per niente però nonostante tutto diciamo che a tratti mi sono divertita anche dico a tratti mi sono divertita perché ci sono stati degli altri dei bassi ecco alle superiori diciamo alle medie sono uscita non con ottimo mi sa tipo con la via di mezzo mi sa sì perché non è che studiassi tantissimo alle superiori sono tornata ad essere la studentessa modello studiavo proprio tipo trattore studiavo a manetta però ho avuto degli insegnanti un po' ambigui nel senso alcuni fantastici altri proprio cioè bestiali tipo c'era un insegnante che non ricordo neanche per quanto tempo è stata con noi ce l'aveva con me io non capivo per quale motivo dove praticamente questa non mi ricordo neanche quanto tempo c'è stata era di storia questa tipo di storia a parte che appena arrivata lei si era andata a leggere perché lei leggeva la scrittura si era andata a leggere i compiti in classe nostri perché è venuta tipo il secondo o il terzo anno non mi ricordo si è andata a leggere i nostri compiti in classe per leggere la scrittura per capire il nostro carattere cioè voi immaginate già hai qualche problema in partenza perché voglio dire io ho sempre scritto e stampatello i compiti in classe delle superiori quindi con me non c'era trippa per gratti questa non poteva leggere la scrittura perché pare che non si può leggere con lo stampatello soltanto con il corsivo e quindi questa qui praticamente voleva costringermi a scrivere in corsivo io facevo no voglio scrivere il stampatello posso farlo e voglio scrivere perché vuoi tu che vuoi sapere il mio carattere ma cosa vuoi ma siamo matti e da lì poi è stata una tragedia perché io studiavo ma studiavo tanto però non gli andava mai bene come studiavo io allora ho cominciato a studiare in tutti i modi possibili c'era un'altra ragazza che aveva studiato praticamente c'è anche le virgole del libro e lei era tutta era molto molto felice di questa interrogazione alla mia interrogazione mi studio quindi tutto anche mi ricordavo anche il numero della pagina avrei potuto descrivere anche l'immagine tutto parola per parola proprio a memoria parola per parola come però su di me non andava bene e allora mi dice spiegami che problemi hai verso di me che facciamo prima facciamo prima senza che io sto a perdere tempo qui uno dei ricordi che mi fa molto ridere delle superiori è di quando prendemmo una nota io e quella mia amica delle medie di cui vi parlavo che poi era tornata dallo scientifico e era finita in classe mia prendemmo una nota per colpa di una nostra compagna molto simpatica che praticamente noi stavamo all'ultimo banco praticamente stanno all'ultimo banco praticamente avevamo tutti davanti l'ora della a me questa mia amica ci è sempre piaciuto mangiare l'ora della ricreazione era molto molto importante alle superiori si ha a disposizione il bar e quindi ci potevamo comprare la merenda lì direttamente a scuola era quasi ora di ricreazione ovviamente c'erano più o meno sempre le stesse cose ogni giorno uno doveva decidere che cosa prendersi se non si portava niente da casa e quindi noi non sapevamo scegliere eravamo indecise in quel momento cosa abbiamo fatto abbiamo ben pensato di prendere tutti quanti fogliettini di carta sui quali abbiamo scritto che ne so pizzetta panino wustel maionese insalata panino prosciutto queste cosine qua li abbiamo accartocciati e volevamo fare il sorteggio quello era il nostro obiettivo ad un certo punto questa simpatica compagna di classe che stava davanti a noi cosa fa si alza tipo scena da film butta indietro la sedia blocca la lezione professoressa che dico cosa urli perché urli cosa vuoi voi immaginate io e quest'altra amica cioè indietro così ma di che succede cioè ignare di quello che stava per accadere se girare su noi parisi e quell'altra mi stanno tirando i cartocci nei cappelli regà non ci ho visto più non ci ho visto più ho fatto ma tu sei pazza cartocci cosa cartocci nei capelli ho preso ho preso tutti i miei cartoccini dei carta sono andata là davanti alla professoressa gliel'ho buttata davanti alla professoressa e mi ha fatto guardi professoressa stavamo soltanto facendo il sorteggio per decidere la merenda la professoressa cioè mi guarda proprio allibita come dire qua i pazzi dentro questa classe ci sono i pazzi quella in un modo noi in un altro e alla fine ha messo la nota a noi cioè ci ha messo la nota a noi è tutto per colpa di cosa vuoi perché ti devi mettere al centro dell'attenzione e non ti si sta filando nessuno perché perché sì che io e quest'altra ragazza avevamo un po' il vizietto di buttare le carte nei capelli delle compagne però quello è un altro discorso esami delle superiori ho studiato veramente tantissimo ecco io ricordo che ho delle superiori di quanto ho studiato studiato il bello è che io avevo fatto talmente tante attività nel pomeriggio che avevo più crediti di quanti io ne potessi utilizzare realmente poi per per il mio per il voto insomma finale avevo praticamente crediti da da regalare e niente quindi ho studiato tantissimo super tesina ai professori che ovviamente quando studi tanto ecco questa qui è una cosa che mi diede veramente tanto tanto fastidio io sono sempre stata alle superiori una persona che ha studiato tantissimo dal primo all'ultimo anno proprio tanto 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 e i professori lo sapevano e da me si aspettavano tanto però era dato per scontato che io dovessi dare tanto una cosa che mi ha nervosita è vedere persone che non hanno fatto niente per cinque anni fare una virgola una virgola fare una virgola sforzarsi una virgola l'ultimo mese del quinto superiore e vedere i professori che li lodavano ma cosa lodi ma sei un ebete fai questo lavoro da anni e vai a lodare una persona che se sta adottata fa praticamente l'ultimo mese giusto per perché si è resa conto che ormai è finito e cioè sarebbe da bocciare sarebbe da rimandare la prima elementare quello sarebbe da rimandare ma perché quello mi diede veramente tanto fastidio perché appunto io sono uscita con cento queste persone mi hanno pompato proprio questi voti che io dico ma perché non è giusto e non è giusto nei confronti di chi ha studiato sempre quindi questo è un ricordo delle superiori che proprio mi mi fastidisce e poi arriviamo all'università dove ho fatto delle nuove amicizie anche il periodo dell'università è stato abbastanza carino allora io voglio dire venivo da ragioneria l'istituto tecnico commerciale ho sempre studiato come una bomba quindi voglio dire primo esame di ragioneria tema già mi fai fare un tema era una professoressa un po' ambigua questa mi fai fare un tema io la traccia praticamente cioè come l'ho letta ho detto ok lo so lo so a parte che l'avevo ristudiato ma poi erano tutte quante cose per me fatte rifatte rifatte in più io lavoravo in contabilità quindi quindi io pensavo di parlare la stessa lingua insomma con l'insegnante erano cose abbastanza basiche banali proprio sulla bc ebbene questa professoressa mi ha bocciato in ragioneria cioè stiamo scherzando sono andata a parlare sono andata a parlare perché avevo studiato perché ero straconvinta straconvinta di aver fatto un tema da paura erano tutti argomenti che io conoscevo non bene di più non solo nella teoria ma anche nella pratica quindi dovevo farmi spiegare da questa tizia perché mi avesse bocciato bene sono andata a parlargli e quello che c'erano anche altri ragazzi lì in fila perché evidentemente come me sono stati bocciati senza motivo cosa mi ha risposto? c'erano delle cose sottolineate tipo ai lati col rosso e mi ha detto che io sono andata fuori tema eh? fuori che? fuori tema? a ragioneria? no anche tu che problemi hai? cioè cosa come si fa ad andare fuori tema a ragioneria? come si fa? cioè se fosse stato un compito di matematica dove facendo uno più uno fa tre mi dici è sbagliato perché fa due non dirmi sei andato fuori tema gli ho fatto mi spieghi cos'è dov'è che sono andata fuori tema ha cominciato a divagare su cose gli ho fatto mi dice dov'è che sono andata fuori tema non ero andata fuori tema semplicemente lei aveva voluto bocciare quel compito per i suoi motivi perché quel giorno c'aveva il ciclo stava girata c'aveva le vampate della menopausa io non lo so non lo so che ci aveva fatto stare mi ha bocciato fatto stare che io ho dovuto ridare l'esame e comunque mi ha fatto passare con un voto bassissimo nonostante che anche nella seconda volta io sapessi tranquillamente la traccia vabbè con l'università ho perso un sacco di tempo perché io ero entrata con un nuovo ordinamento e avevo fatto tutti gli esami del primo anno tant'è che ero rientrata anche con la borsa di studio nel primo anno proprio perché ero in regola con tutti quanti i crediti nel secondo anno praticamente mi sembra nel secondo anno si hanno avuto la brillante idea si sono resi conto che c'erano troppi esami e quindi hanno creato il nuovissimo ordinamento accorpando tutti quanti gli esami cioè due esami diventavano un unico esame il problema è che se tu avevi dato un solo esame della coppia non avevi l'altro mezzo per farlo riconoscere quindi o ti sbrigavi praticamente nell'arco di tempo che ti avevano dato a accorpare il secondo esame che ti mancava o perdevi anche quell'esame e mi ero riuscita a dare due o tre esami lì da accorpare però il problema è che io ce l'avevo tutti quanti smezzati proprio perché ero al primo anno praticamente era all'inizio del secondo e quindi morale della favola anche perché io studiavo io avevo i miei tempi per studiare studiavo molto ma avevo bisogno di tempo per studiare e quindi non ce l'ho fatta a dare tutti quegli esami mi hanno mangiato quattro o cinque esami tipo una roba del genere e voi immaginatevi a ritrovarsi praticamente che ti annullano quattro o cinque esami cioè dici no è uno scherzo e nel primo anno di questo nuovissimo ordinamento non ci diedero la possibilità di passare dal nuovo al nuovissimo quindi persi quest'anno dove anche i professori non sapevano niente di questo cambiamento mi avevano tolto le lezioni perché ormai c'erano solo le lezioni del nuovissimo insomma un macello quindi in questo trambusto al terzo anno finalmente ho potuto fare il passaggio e rimettiti comunque lì a studiare cose che già avevi dato ma comunque le te le devi andare a riprendere devi andarti a riseguire le lezioni perché magari ovviamente l'insegnante ha cambiato molto del programma cioè la parte aggiuntiva insomma un bordello un bordello io poi sono arrivata al quarto anno che già non ce la facevo più perché già ero fuori corso già ero fuori corso arrivato al quarto anno dove proprio già ce l'avevo qui perché proprio già non ne potevo più praticamente stavo soltanto spendendo soldi inutilmente perché poi ti demotivano tantissimo queste cose qui cosa è successo praticamente poi in concomitanza è nato tutto quanto questo mondo di youtube e quindi ovviamente avendo il lavoro avendo youtube che comunque cominciava a darmi delle soddisfazioni anche da lì cominciava a vedere qualche soldino alla fine ho deciso di abbandonare l'università che tanto era lo sapete cosa non mi vedevo futuro con l'università in quel periodo proprio perché stavano succedendo tutte queste cose mi vedevo fuori corso la vedevo proprio lontana la laurea e vedevo invece immediato il lavoro che avevo e vedevo nell'immediato questa possibilità che stava nascendo da youtube e quindi ho lasciato l'università per questo motivo qui vi dico che col seno di poi non so se ho fatto bene a lasciare l'università non lo so ancora non so dirmi sì ho fatto bene no non ho fatto bene ovviamente per tutto quanto il percorso che ho avuto mi viene più da dire sì ho fatto bene perché comunque qualcosa me lo sono costruito comunque un mestiere me lo sono imparato perché comunque sia ho fatto l'accademia ho la mia licenza e ho fatto altre 3.000 cose nel frattempo quindi non è che per lavorare ci sia necessariamente bisogno della laurea certo se c'è tanto meglio però non per tutti i lavori ovviamente c'è bisogno di una laurea e non è che il non essere laureati porta ad essere ignoranti porta ad essere stupidi sono semplicemente io penso che siano semplicemente scelte di vita e anche la cultura e l'intelligenza stanno poi alla singola persona a conclusione di tutto volevo dare qualche consiglio a chi si sta trovando a fare il passaggio da elementari a medio da media e superiori e poi da superiori a università se decide di continuare allora passaggio elementari medi e medi e superiori vi dico vivetela molto easy nel senso fregatevene se avete paura che quelli più grandi possano fare no vivete questo momento di cambiamento in modo molto molto easy perché alla fine ci siamo passati tutti non succede niente la scuola peraltro è un momento della vita veramente molto bello io non tornerai indietro cioè se potessi scegliere non tornerai indietro per non rifare tutto quanto lo studio che ho fatto che due scatole tanto però mi sono veramente divertita in quegli anni lì quindi ho bellissimi ricordi quindi non rovinatevi quegli anni con timidezze paure cose fobie anche se non avete studiato un giorno insomma non state lì a distruggervi oddio mio non ho studiato andate amen insomma studierete per la prossima volta quindi mi raccomando per quanto riguarda invece passaggio ma già da media superiore e poi superiori medie cercate ecco una cosa importante invece dove dovete concentrare le attenzioni è capire cosa volete fare nella vita perché secondo me il sistema scolastico attuale non ci permette di capire cosa vogliamo non è molto individuale e quindi non ci permette di capire noi chi siamo la nostra identità secondo me non viene tirata fuori non ci permette di capire cosa vogliamo non ci permette di farci scoprire quali sono le nostre passioni quindi ecco una cosa che vi consiglio di fare che è veramente importante per non perdere tempo perché ve lo dico io che attualmente ho 28 anni e mi rendo conto che se certe cose le avessi capite prima mi sarei risparmiata determinati anni come gli anni dell'università io me li sarei risparmiati avrei cominciato prima a fare cose che però io amavo disegnare da piccola per esempio ma è stata una passione che purtroppo con la scuola io ho dovuto buttare via ho dovuto mettere da parte e quindi cercate di capire voi cosa vi piace fare cercate di capire cosa vi rende felici perché dal scegliere l'indirizzo di studi giusto è quello che poi vi renderà felici nel vostro futuro perché fare un lavoro che vi piace automaticamente vi rende più felici vi rende più facile lo studio quindi questo qui è il consiglio più grande più importante che ci tenevo a dare in questo video a parte quei racconti che possono essere in parte buffi e niente quindi detto questo io auguro un bel in bocca al lupo a tutti un buon rientro a scuola studiate mi raccomando perché è importante e niente vi mando un bacione ciao ciao